All'American Airlines Center di Dallas, Stephen Curry, il primo attore della vittoria dei Golden State Warriors, da due anni campione NBA sui Mavericks. Avete visto che bomba da tre per Stephen Curry. Dallas resta in partita grazie al quasi ventenne Luka Doncic, altri tre punti pesanti. La partita prosegue punto a punto, gli Warriors mettono la freccia con l'ennesimo tiro da tre di Stephen Curry, 110 a 108, alla fine 48 punti per lui. E' un autentico Curry show, penetrazione e sospensione one-hander per il 114 pari. E' letteralmente un duello tra Curry e Doncic, 26 punti per lui, ma stavolta lo sloveno sbaglia il tiro da tre a 60 secondi dalla fine. E la partita la mette in ghiaccio sempre lui naturalmente, Stephen Curry. Ecco il suo long shot finale, fantastico. 119-114 per Golden State, secondo nella West Conference dietro a Denver.